I carabinieri della compagnia di Osimo sono riusciti a scoprire, bloccare e sgominare definitivamente una banda ROM di criminali abruzzesi, ben organizzata e agguerrita, specializzata in assalti a casse continue e colonnine self-service dei distributori di carburante nelle regioni Marche ed Abruzzo. I quattro erano residenti nella provincia di Teramo, in Alba Adriatica, di cui tre incensurati ed un quarto il capo pluripregiudicato per reati specifici contro il patrimonio ed altro, tutti originari di Galati in Romania. C'è ancora il massimo riservo da parte della Procura della Repubblica di Ancona e Pesero Urbino per l'attività investigativa compiuta dalla compagnia di Osimo, che dovrà far piena luce sugli assalti notturni consumati nelle aree di servizio dei distributori di carburanti dai banditi romeni in tutte le province delle regioni Abruzzo e Marche. Le indagini sono state avviate ad inizio anno in collaborazione con le compagnie di Alba Adriatica e Fano e continuate dopo l'assalto avvenuto il 10 febbraio 2018 presso il distributore di carburanti Kuwait di Aspio di Camerano, dove i banditi sono riusciti a rapinare circa 8.000 euro e provocare danni per 35.000 euro complessivi. Con le indagini i carabinieri hanno ricostruito l'intero modus operandi dei banditi, tutti successivamente identificati e specializzati nella commissione di furti ai danni di colonnine self-service ubicate nelle stazioni di servizio, i quali utilizzavano per i loro spostamenti nella regione Marche ed Abruzzo l'autovettura una BMW Serie 3 Station Vagon di colore rosso con la targa romena della provincia di Galati. La banda nei giorni scorsi si è resa responsabile anche di analoghi furti avvenuti nelle province di Macerata e Teramo. La scorsa notte, domenica 6 maggio, alle ore 3.30 circa, la BMW di colore rosso dei banditi è stata intercettata lungo la strada statale 16 del comune di Fano in direzione nord. È arrivata all'altezza del distributore Ipimeti che si è fermata sul lato destro e tre del gruppo si sono nascosti nella sterpaglia mentre l'autovettura si è allontanata in direzione nord. A quel punto i carabinieri di Osimo, sulle loro tracce, in collaborazione con la compagnia di Fano, hanno circondato l'intera area impedendo così ai banditi ogni via di fuga e posizionando i mezzi militari a debita distanza, mentre quelli dei rispettivi nuclei operativi nelle immediate vicinanze per controllare le mosse dei criminali scesi dall'auto e subito messisi all'opera nello scardinare una colonnina self-service. A quel punto però è scattata la trappola per cogliere nella fragranza di reato i banditi. Da lì a poco la BMW ha recuperato i tre banditi e si è diretta lungo la strada statale 16 in direzione nord, però è stata bloccata, seguita e fermata in sicurezza nei pressi della casella autostradale di Fano e circondata dai carabinieri di Osimo e Fano. I quattro così sono stati immobilizzati, ammanettati e dichiarati in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Il sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro, dottoressa Silvia Cecchi, ne ha disposto così la custodia in attesa della celebrazione del giudizio di convalida e conseguente giudizio per la direttissima presso le Camere di Sicurezza della Compagnia di Osimo. Nella tarda mattinata di oggi alle 13.30 nel corso dell'udienza per rito direttissimo tenutasi presso il Tribunale di Pesaro è stato convalidato l'arresto della banda dei quattro Rom e su richiesta dei termini a difesa del legale di parte l'udienza rinviata di 30 giorni, ovvero al 6-6-2018, però disponendo nei confronti dei Rom la misura degli arresti domiciliari nei rispettivi luoghi di dimora o domicilio.